Stiamo costruendo un sito, nuova civilizzazione, è meraviglioso costruire. Cosa dobbiamo avere in mente costruendolo? Io penserò sempre a un albero, un sito è come un albero. Come si impianta un albero? Si fa una grande buca, grande, profonda, levando le pietre e si mette una certa quantità di concime, di letame organico e subito sopra un po' di buona terra. Le radici dei giovani alberi non devono immediatamente stare sull'etane. Letame, la terra, l'albero con il pane radicale, completo, si poggia, si mette attorno alla buona terra e siccome le radici ancora non bastano a reggerlo, si mette accanto un palo, un tutore e si assicura al tronco, non col filo di ferro che lo strozzerebbe, con una corda, con un elastico. si mette ancora terra, si pigia, si innaffia, si innaffia e non si pota, in una prima fase non si pota l'albero e non si toglie la fiamma apicale, le germe che stanno in cima, i rametti che crescono, cresce. Dopo una settimana ancora acqua, crescerà bene così quest'albero, come il nostro sito.